Oltre 1000 euro di sanzione per aver superato il limite di velocità. L'odissea per l'automobilista vastese è iniziata nel 2008, quando da un accertamento con apparecchiatura elettronica in territorio di San Giovanni Lipioni è stato riscontrato nella zona con limitazione di 70 km orari che l'auto condotta dal vastese viaggiava ad una velocità di 94 km orari. Inevitabile quindi il pagamento della sanzione di 148 euro. Fin qui niente di strano ma la situazione cambia quando nei giorni scorsi l'automobilista ha ricevuto una cartella di Equitalia che sollecita il pagamento di 905 euro e 88 centesimi. Naturalmente si pensa subito ad un errore perché quella zona non è frequentata da nessun componente di quella famiglia. Per caso però torna il ricordo del pagamento della multa e dopo una piccola indagine si scopre che la rata da pagare in realtà è una nuova sanzione relativa a quella precedente. Il motivo? Nonostante il pagamento della multa per eccesso di velocità non è stato inviato entro 60 giorni un modulo con i dati personali e della patente del conducente dell'auto al momento della violazione. Per questa ragione da 250 euro sanzione minima prevista lo sfortunato vastese dovrà pagare con gli interessi inclusi 905 euro e 88 centesimi vale a dire 148 euro dell'importo già pagato della prima sanzione e 905 euro 88 centesimi della cartella Equitalia oltre 1000 euro per aver superato il limite di velocità. Grazie. Grazie. Grazie.